ecco qua oggi siamo alla ricerca delle sirene vero ginevra le troviamo di te magari forse adesso fa la rete verso nuove avventure no ma ci vedo ci piace? mi deve raccontarsi qualcosa ci dica un po' signora aspetta dirvi un po' allora stiamo con il spaghetti per la Venezia arriviamo dalla Venezia? si vai e che un po' è un po' un po' un po' Grazie.